Il Castello di Frontone, risalente all'undicesimo secolo, è pronto ad accogliere nelle giornate del 25 novembre, 1, 8, 9 e 16 dicembre, i mercatini di Natale. L'evento, intitolato Nel Castello di Babbo Natale, attira sia per la bellezza del luogo che per la qualità dell'iniziativa migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Da due o tre anni a questa parte abbiamo creato anche l'esterno del castello, perciò c'è l'interno con tutto riscaldato e forse se non sbaglio è l'unico mercatino che comunque sia tutto al coperto, perciò anche in condizioni meteo abbiamo tutta la situazione, espositori e parecchi eventi tutti al coperto. In più abbiamo nel borgo antico del castello queste casette dove gli espositori comunque sia offrono pietanze che dei regali per piccoli pensierini a Natale. Abbiamo in servizio navetta dal comune di fronte alla piazza del municipio che porterà direttamente il turista e il visitatore a Frontone e se è arrivato un po' prima i ristoranti, le pizzerie, tutti i bar naturali fanno dei mangiare, potrai gustare la crescita di Frontone e via dicendo. Oltre agli espositori sarà possibile gustare castagne e vin brulee, ascoltando le melodiche note dei brani natalizi per tutto il borgo, mentre per i più piccoli uno spazio dedicato a Babbo Natale con elfi, regali, letterine e scatti fotografici. Il borgo di Frontone si animerà di mille luci pronte per accogliere i tanti visitatori che ogni anno vengono da noi per vivere la magia del Natale in un contesto unico a livello provinciale, ma crediamo anche regionale e a livello italiano, in cui si unisce la bellezza del borgo al magnifico contesto montano dominato dal nostro Monte Catria. www.mercatini.castellodifrontone.it In questo sito sarà possibile vedere il programma di ognuna delle cinque giornate. Iniziamo il 25 novembre, in particolare il 2 dicembre avremo le sculture di ghiaccio con il maestro Falasconi, che arricchirà il già bellissimo contesto con la magia delle sculture di ghiaccio. Nel weekend successivo, 8 e 9, anche il 16, avremo la presenza degli zampognari del Monte Feltro e di una band di Babbo Natale, che animeranno il contesto con degli spettacoli itineranti, in cui verrà coinvolto anche il pubblico presente. Quindi vi aspettiamo tutti a frontone per questa 17esima edizione dei mercatini di Natale, per vivere ancora una volta la magia del nostro bellissimo borgo.